ragazzi ho tirato un driver si chiuse leggermente bunker del fairway ma sapete come si fa a giocare dal bunker in mezzo al fairway ciao sono alessandro pizzi di golf project se ti è piaciuto il video metti mi piace e scrivi un commento qui sotto non dimenticati di iscriverti al nostro canale youtube e attivare la campanella perfetto ragazzi una situazione che può capitare in campo andare in bunker in mezzo al fairway ma come si gioca dal bunker in mezzo al fairway non è come dal bunker del green non bisogna prendere prima la sabbia se no si fa una bella flappetta quindi iniziamo già come posizione di setup a cambiarlo un attimino è importantissimo colpire la palla pulita fare quasi un toppino una spizzicata per uscire bene con la pallina quindi intanto arretra un po la palla più sul piede destro ok così mi do la possibilità di prendere prima la palla e fare poca zolla impugno leggermente più corto il bastone per avere un po più controllo affondo i piedi ma non troppo perché non devo andare giù troppo io perché sennò rischio di prendere troppa sabbia e fare un brutto colpo quindi è importante fare lo su il normale classico quindi ampio completo dietro in avanti ruotare bene e avere già leggermente il peso più a sinistra in posizione quindi regole fondamentali arretro la palla impugno leggermente più corto arretrando la palla ho un angolo d'attacco maggiore ma prendo prima la palla e devo prendere poca sabbia ve lo mostro mi posiziono palla leggermente a destra miro leggermente un pochino a destra perché a sinistra c'ho un bel laghetto impugno leggermente più corto faccio le prove e via ragazzi avete visto come ho preso pochissima sabbia la palla è partita subito bella tesa leggermente a destra del grima non è un problema l'importante è riuscire e fare la distanza corretta ricordatevi che impugnando un po più corto e arretrando un po la palla fate leggermente meno distanza quindi giocate un bastone in più e impugnandolo un po più corto ragazzi se ti è piaciuto questo video metti mi piace scrivi sotto un commento fatemi vedere anche voi dal banca del fairway quali sono i vostri problemi come affrontato il colpo non dimenticate di iscriverti al nostro canale youtube e attivare la campanella che dire perfetto grazie a tutti